Permesso legato, replicò l'ufficiale. Non voglio che lei rischi la sua vita per un uomo che probabilmente è già morto. Ci mancherebbe. Il soldato, senza prestare attenzione al divieto, se ne andò. E un urodocco ritornò ferito mortalmente, trasportando il cadavere dell'amico. L'ufficiale era furioso. Le avevo detto che ormai era già morto. Mi dica se valeva la pena andare là per recuperare un cadavere. Il soldato moribondo rispose, certo signore, non le va la pena. Perché quando l'ho trovato era ancora vivo e ha potuto dirmi, ero sicuro che saresti venuto. Nel morto pur alpì, sulla montagna. Ritornabas al conflitto por la terra. Nel morto pur alpì, le casca in terra. Nel morto pur alpì, le casca in terra.